Quando sei qui con me, questa stanza non ha pareti, ma è di me, alberi infiniti con me. Dockman mi ha commosso molto perché ha un grandissimo, parla di un rapporto molto intimo tra un padre e una figlia e secondo me dell'insicurezza di un padre di essere all'altezza del suo ruolo. Vorrei sapere se è vero. Sì, no, no, mi piace molto come sei la prima che me lo dice. Sì, sono perfettamente d'accordo. Credo che la tenerezza che Marcello ha nei confronti dell'amore che Marcello ha nei confronti della figlia, del lavoro che fa, l'amore che ha nel rapporto con i cani. È un personaggio che in qualche modo ha una grande purezza, candore. E quindi inevitabilmente è una storia che poi, vivendola insieme a lui, in qualche modo quasi insoggettiva, ti porta poi, mano a mano, che le cose iniziano a cambiare, a soffrire insieme a lui. È un film dove ci sono momenti di grande dolcezza e anche alternati a momenti anche di violenza, ma che è una violenza più psicologica, direi, che si distacca completamente dal fatto di cronaca. Ecco, questo per me è fondamentale, continuare a dirlo, poi se tu hai visto il film, quindi mi puoi capire. Perché c'è un pubblico che non ha visto il film e che magari teme di vedere qualcosa di estremamente truculento, macabro, mozzamenti di dita o cose varie, no? Perché il fatto di cronaca è famoso per queste cose. Invece io ci tengo a essere proprio chiaro che chi vuole vedere quella roba lì è meglio che non va a vedere il film perché rimane deluso. Il film si muove su un altro piano e su un altro tipo di violenza, che è una violenza più psicologica. A un certo punto del film un personaggio dice che il problema è tuo e te lo devi risolvere te. Un regista che in realtà risolve molti problemi e lavora in gruppo penso che abbia una visione diversa della vita, però l'ho trovato molto interessante per il momento presente che viviamo. Questi problemi che ci dobbiamo risolvere da soli. Che possiamo fare per non risolvere da soli? Ecco, beh lì esce fuori il cinismo di quei personaggi e è un villaggio che richiama un po' certe atmosfere western, come hai visto, però è anche metafora di una società che è quella in cui viviamo. Quindi c'è chi agirebbe in un modo dicendo aspettiamo, ognuno ha le proprie soluzioni più o meno egoistiche rispetto. Poi c'è anche il rapporto appunto come lo davidei con la figlia, che è un rapporto molto limpido, puro, solare. Qui ci sono luci e ombre, ecco, Marcello è un personaggio che alterna momenti di grande dolcezza ad altri in cui magari cerca in maniera più o meno goffa di gestire tutti i rapporti. Quindi anche la difficoltà sua nelle relazioni umane e nel cercare di vivere, salvare, sopravvivere e salvare quello che è il suo piccolo mondo. E anche la paura di una persona che comunque è in qualche modo indifesa, è piccolo, è vulnerabile. Insomma è un film che parla di noi, delle nostre paure e del rapporto che ognuno di noi vive con l'ambiente esterno e delle relazioni umane ed anche delle difficoltà delle relazioni umane. Per me, 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 me.